Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. Ci è voluto qualche giorno, però dopo le segnalazioni di Terenostra sono state rimosse le siringhe ancora insanguinate, le siringhe lasciate sul posto all'ingresso di Parco della Memoria da ieroinomani che si erano iniettati la sostanza stupefacente. È stata anche effettuata un'ampia pulizia all'interno del corridoio che porta al Parco. Sono stati rimossi anche i cocci di vetro, i residui di medicinali che abbiamo trovato in questa zona del Parco, la zona antistante al polmone verde abbandonato. Ringraziamo ovviamente chi si è impegnato a ripulire, soprattutto le siringhe insanguinate che rappresentavano un pericolo per i passanti. per i cittadini. Questa è una zona frequentata anche dagli studenti perché ci troviamo, abbiamo relli e silvati nel bel mezzo del campus scolastico. Vedete più in fondo le luci del nuovo seminario che sono accese e speriamo che un giorno si possa accendere anche la luce del Parco della Memoria, un patrimonio distrutto da anni. Speriamo bene, ma questa è un'altra brutta storia.